Frantoio Mercurius di Penne, al centro di un'area dove l'olio è di casa, quasi nel vero senso della parola. Qui è approdata una delle 20 tappe del progetto Scegliamo di nutrire la salute della Fondazione Fogi, finanziato dalla Regione, pubblico composto per lo più da operatori dell'agricoltura. Giustamente attento, il paradosso di fondo è che spesso mangiando scegliamo prodotti che finiscono con nutrire la malattia. Forse è il caso di invertire la rotta. Il progetto nel suo complesso a cosa punta? Il progetto punta ad educare le persone a raggiungere un'alimentazione equilibrata. Il punto fondamentale è che non bisogna mirare sempre all'effetto commerciale, ma guardare anche al prodotto, alla genuità del prodotto e di come si produce. Un prodotto di qualità è facile da vendere o quali difficoltà incontra? Il prodotto di qualità è difficile da realizzare ed è anche difficile da vendere perché purtroppo ci scontriamo con la grande distribuzione e con i prodotti importati dall'estero che molto spesso vengono posti sui banchi a prezzi molto più concorrenziali. Purtroppo in passato è stata fatta anche confusione perché spesso i medici stessi davano delle raccomandazioni sbagliate negli anni passati dove dicevano magari al bambino dargli un olio vecchio che magari è più digeribile, in realtà è il contrario. Anche il discorso pubblicitario, il famoso olio che si saltava la staccionata perché era più leggero. Un altro progetto importante che ci era stato chiesto proprio dal comune di Penne, da tutti i comuni limitrofi per Penne è quello di valorizzare in particolare alcuni reparti dell'ospedale civile San Massimo di Penne e qui su questo stiamo puntando molto per creare una scuola di alta formazione nel settore della gastroenterologia. E un altro progetto importante lo avremo a breve nella vallata del Pescara per costruire per un osservatorio epidemiologico che si va a occupare delle malattie professionali, in particolare di quelle derivanti dal silicio, l'utilizzo del silicio, una zona talmente importante per Scafa, come sapete, e Bussi.